Capitano Esposito, questa mattina i carabinieri hanno arrestato un uomo per violenza nei confronti della famiglia. Anche in questo periodo di coronavirus la violenza continua? I militari della sezione radiomobile del nucleo operativo di Crotone nel pomeriggio di ieri mercoledì 15 hanno arrestato un 37enne italiano residente a Crotone, coniugato, disoccupato con vari precedenti di polizia per maltrattamento in famiglia e resistenza a un pubblico ufficiale. Quindi anche nel periodo di coronavirus purtroppo possono acuirsi alcune situazioni di tensione familiare. La vittima è la moglie, più giovane del soggetto, che già alcune sere prima si era rifugiata a casa di un parente proprio a causa dei continui dissidi con il marito. Nella mattina di ieri i militari sono stati costretti a intervenire in due occasioni. In una prima, quando l'uomo aveva inserito un oggetto all'interno del citofono, suonando quindi con insistenza lo stesso e infastidendo nel primo ora della mattinata le persone presenti in quella casa. Nella seconda occasione, quando poi l'hanno trovato sul posto, stava tentando di entrare in abitazione per riportare a casa la moglie e i figli minorenni. Nella seconda occasione appunto ha opposto anche resistenza ai militari, divincolandosi più volte con strattoni senza causare lesioni però ai carabinieri. Quindi l'arrestato è stato tradotto in carcere a Crotone in attesa dell'interrogatorio del GIP. Controlli pasquali fatti a tappeto, dobbiamo dire, ma ci sono state delle situazioni particolari che avete dovuto denunciare? Nel weekend pasquale, quindi già a partire da sabato 11, così come deciso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza Pubblica, sono state dispiegate sul territorio della Compagnia di Crotone, ma in generale su tutta la provincia, diverse decine di pattuglie. Fortunatamente senza situazioni particolari, eccetto per la giornata di sabato 11, quando i militari della stazione di Rocca di Neto sono intervenuti in un'abitazione privata dove hanno trovato nove giovani, tra cui anche una minorenne, intenti a festeggiare le festività in corso, tutti estranei tra loro, quindi non appartenenti a medesimi nuclei familiari. E' stato sequestrato anche circa 6 grammi di cocaina e poco più di 11 grammi di marijuana. Quindi sono stati tutti segnalati al prefetto come assuntori e sanzionati ai sensi dell'ultimo decreto legge, quindi per le inosservanze dei provvedimenti e quindi come violazione amministrativa. Che percezione c'è nei cittadini al momento del controllo, soprattutto quando sono fermati, di quella che è l'attività messa in campo dai carabinieri a tutela della salute pubblica? L'atteggiamento dei cittadini crotonesi e di tutti i paesi della provincia è generalmente molto collaborativo e soprattutto anche di comprensione nei confronti del nostro operato, operato che è appunto a tutela del bene della salute, della collettività, quindi devo dire che la stragrande maggioranza della popolazione ha un atteggiamento molto rispettoso delle regole. Noi identifichiamo appunto nella maggior parte dei casi persone che si spostano per comprovati motivi e a tal proposito insomma ricordo che l'ultimo decreto della Regione Calabria prevede l'utilizzo obbligatorio delle mascherine, ovvero di qualsiasi, anche un sharp, insomma indumento che possa coprire naso e bocca e soprattutto che l'uscita per i beni di prima necessità è prevista per una sola volta, massimo una volta al giorno e per massimo una persona per ogni nucleo familiare.